5, 4, 3, 2, 1, via! Sinistra 6 per destra 4, con sinistra 2, meglio di quasi di 10 scimari, guida così senza l'esercizionale, destra 2, 3, 5, 5, in, al palo, destra 4, più, destra 4, più, verso, destra in sosta, 6, non è più buono, non è più buono sicure. Spero di partire già con un buon passo, anche se come dicevo prima, bisogna testare la macchina perché non muovi i portizzatori. Partito! Anche Silvano Pintarelli tocca, ma ora vado da Mato del 1,3. Pintarelli tocca, ma ora vado da Mato del 1,3. 150 con avvalamento alla fine, con avvalamento alla fine, sinistra 2, più, sinistra 2, più, in, destra 5, più, e sinistra destra 5, più con avvalamento, attento si salta e butta fuori, di occhio, e sinistra 2, più, taglia, 2, più, taglia, per destra 6. Il dietro sta bene molto bene, però davanti allarga troppo la proiettoria. Grazie mille, grazie mille, grazie mille! verdade, grazie mille, grazie mille, grazie mille... con le vostro stori, con le vostre storie. In cui, bollarte gli armati gl Nanini è andato, ma i loro unico con le vostri, oggi non è un buon passaggio più coloro, Grazie a tutti. Concentrato, guida bene, sicuro. 5, 4, 3, 2, 1, via! In tornante destro, per sinistra 4+, in destra 6 con tornante sinistra. In sinistra 6, e destra 6, e sinistra 2+, con tornante destro stringe, 2+, con tornante destro stringe, 2+, tornante destro stringe. Subito, sinistra 4, con destra 2, meno ritarda, 2, meno ritarda, in sinistra 3+, e sinistra 6, per destra 6, in sinistra 2, meno gira, in sinistra 2, meno gira. Adesso bene le traiettorie, destra 6, in array, in ritardo, 3+, apre, in destra sinistra 6, 50, tornante sinistro. Un tornante sinistro, 40, destra 5+, in sinistra 6, in destra 4, lunga, 4, lunga, 40, sinistra 2, meno, sinistra 2, meno. Non strozzate proprio, con destra 4, in sinistra 5, subito tornante destro, subito tornante destro, 70, sinistra 5, meno lunga, meno lunga, in destra 2, destra 2, per sinistra 5, meno, 5, meno, in destra, in sinistra 5, per sinistra 2. 5, per sinistra 2, 70, destra 4, meno, no, in sinistra 5, meno, 50, 5, meno, 50, destra 6, sinistra 5, 10, destra 2, più, 5, 10, destra 2, più. Con sinistra, destra 3, più, apre, 6, sinistra, destra 3, più, apre, 6, per sinistra, sinistra 3, più, 3, 40, 3, 40, tornante sinistro. In destra 2, più, ritardo a poco, 2, più, ritardo a poco. In sinistra 6, 100, destra 4, ritardo a poco, subito, sinistra 3, meno, attenzione ai cubetti, sinistra 3, meno, attenzione ai cubetti, con tornante destro. In destra 5, in sinistra 5, meno, attenzione ai cubetti, con tornante sinistro, 5, in tornante sinistro. Destra 2, destra 2, destra 2, in destra 5, più, in sinistra 5, più, 70, 5, più, 70, sinistra 2, meno, gira, sinistra 2, meno, gira, 70, destra 4, in sinistra 4, in destra 3, più. Ano, per, destra 2, più, per, destra 4, in destra 1, più, 100, sinistra, destra 5, più, taglia, sinistra 5, più, taglia, 70, sinistra 2, meno, gira, sinistra 2, meno, gira, per, destra 2, più. destra 2 più in sinistra 6 e sinistra 3 più più sinistra 3 più più in destra 6 in sinistra 6 lunga 50 tornante destro in tornante sinistro per destra 6 e destra subito tornante destro destra subito tornante destro destra subito tornante destro 10 tornante sinistro per inizio rail sinistra 3 meno con destra 2 meno destra 2 meno con sinistra 3 con destra 5 50 sinistra 3 più 3 più per sinistra 4 meno 70 4 meno 70 destra 6 con dosso subito sinistra 3 meno lunga ritarda subito occhio sinistra 3 meno lunga ritarda con destra 4 10 tornante destro con tornante sinistro piano non troppo non troppo ecco la macchina è la macchina mi piace se io ho fatto dei modifichier da prima seconda adesso meglio finalmente l'ultima prova è l'unica che sono riuscito a guidare come dicevo io è con la macchina che stava in strada prima invece Santa Caterina si vede perso 10 secondi, proprio buttati, perché la macchina era inguidabile, il muso non stava, dietro non stava. Il trasferimento tra Santa Caterina e quest'altra, abbiamo migliorato un filino, abbiamo fatto abbastanza bene la Monte di Malo e finalmente l'abbiamo sistemata un'altra volta dopo altre regolazioni della Campodalbero e lì è venuto fuori il tempo e ho guidato come piace a me, insomma, finalmente. Adesso ci siamo, adesso vediamo Santa Caterina, se lo sento e mi risponde come adesso, adesso dobbiamo fare dei bei tempi, mi auguro. Sinistra 6, per destra 6 con dosso, subito sinistra 5 più e molta attenzione, staccata sporca per attento, destra 3, 5 più, staccata sporca, destra 3, sporca, viaia brutta, buon calma. In sinistra 6, in sinistra 3 più più, 3 più più, 40 su dosso, destra 3, destra 3, in sinistra 2 più, 2 più, in destra 6 su Bivio, in sinistra 6 in paese, fine chiesa, attento destra, con destra 4 più, con destra 4 più, 10 tornante sinistra, 4 più, 10 tornante sinistra, 50, sinistra 6, 30 tornante destro, 6, 30 tornante destro, per destra 6, per destra 6, per destra 6, 2 volte, e attenzione sinistra 5, in attenzione destra 6 lunga no, 5 attenzione, in destra 6 lunga no, 40 tornante sinistro, 50, sinistra 6, 20 tornante sinistra, 50 tornante sinistra, 50 tornante sinistra, Questa manifestazione Un grande complimento Per me è una rivisita Per due cose Prima per i problemi che ho avuto quest'anno Con le macchine Che erano 12 anni Che rompevo, battevo E inoltre Un po' per il risultato che è il bene Che alcuni dicevano Che non c'era nessuno Non c'era concorrenza Penso che qua è più di così Con la concorrenza che c'era La costanza che ho avuto I tempi sono usciti Abbiamo lavorato bene Dietro la macchina E se vedi abbiamo Potremmo lavorato Inaspettate